Tra le città italiane del cinema, Lucca riveste un posto importante. Da 18 anni, grazie al suo festival di punta, Lucca Film Festival, fino all'anno scorso associato allo storico Europa Cinema, manifestazione ricca di proposte e ospiti internazionali. Le scorse edizioni sul red carpet del Lucca Film Festival erano sfilati Oliver Stone, David Lynch, Ruge Rauer, Giorgio Romero, Paolo Sorrentino e William Dafoe. Quest'anno, nelle date festivaliere dal 23 settembre al 2 ottobre, sono attesi a Lucca il regista argentino estremo e controcorrente Gaspar Noé. E ancora Giuseppe Tornatore, Paolo Taviani, Peter Greenaway, Paolo Virzi, che presenterà in anteprima assoluta, direttamente da Venezia 79, il suo ultimo film Si città, e Luca Miniero. Due anni di pandemia, è veramente bellissimo vedere di riuscirci ancora. Come prima, avremo tanti film, avremo tanto pubblico, avremo tanti ospiti. Nella nostra piccola Lucca che diventa un set a cielo aperto per tutta la settimana del festival. Sicuramente dobbiamo parlare di Gaspar Noé, un astro della cinematografia contemporanea, Giuseppe Tornatore, che non ha bisogno di essere presentato, ma avviene proprio perché a Lucca Morricone ha fatto il suo ultimo concerto, quindi un doveroso maggio a Morricone che facciamo insieme a lui. Avremo Paolo Virzi con il film in anteprima, non poteva non essere premiato a Lucca, un grande regista toscano come lui, avremo Ficarra, avremo tanti film e avremo anche e soprattutto la parte performativa, gli eventi dal vivo, tanti eventi dal vivo di Lucca Effetto Cinema, tutta quella parte di performance dedicate ai film, alle serie televisive, che per la sera dell'1 ottobre animeranno Lucca di nuovo per tutta la sera in tutta la città. Oltre all'importante novità della prima edizione del premio Dante Alighieri Cinema Award, da segnalare la sezione Focus, dedicate alle produzioni con forte valore territoriale, legata alla Toscana e in particolare alla provincia di Lucca. Un'ulteriore conferma di come il cinema sia anche un ottimo veicolo di promozione territoriale. La Fondazione la sostiene da sempre perché la Fondazione sostiene la rete diffusa delle attività cinematografiche e quindi tutti i festival che hanno luogo in Toscana arricchiscono il panorama e le Lucca e in questo è un festival davvero molto importante sia per il prestigio degli ospiti che da sempre lo hanno frequentato, come anche quest'anno, sia perché è un pilastro solido della programmazione regionale. In più alcuni focus, il focus stesso che quest'anno è previsto nel programma, le attività e il premio con la World's per Dante Alighieri a cui Fondazione tiene molto in occasione dell'altro anno del settecentesimo anno della ricorrenza e una serie di momenti di approfondimento anche legati ai ragazzi. Sappiamo che la Fondazione segue con il cinema le attività anche di divulgazione e diffusione della cultura cinematografica in questo Lucca Filfestino è un fiore all'occhiello. Abbiamo sezioni anche che guardano, è molto importante, alle scuole, all'educazione, alla formazione. Molti autori come Paolo Verzi piuttosto che anche Ficarra faranno gli incontri con gli studenti, come facevamo anche lì prima della pandemia. Abbiamo sezioni che guardano alla sperimentazione come over the real e sezioni che guardano al futuro, come film for our future. In tutto saranno 170 film in programma al Lucca Filfestival, di cui 70 anteprime assolute, tutte d'ingresso libero, che faranno vivere alla città una vera festa del cinema.